è il silenzio 4, 3, 2, 1 vai con la grafica attenzione al corteggio per la musica attenzione Andrea, attenzione alla grafica attenzione per la grafica 10 secondi attenzione per il maestro questa è la nostra non è come il maestro vai con la grafica musica 1, dentro 3, dentro 6, dentro 4, dentro 2, dentro 1, dentro 3, dentro 6, dentro 4, dentro 2, dentro 9, dentro 6, 7, 8 4, dentro 1 Dentro 4 6 e 2 Dentro 4 3 e 2 3 dentro 4 6 2 4 1 1 Dentro 2 Dentro Fermo 4 Dentro 1 2 5 5 2 3 2 3 2 3 3 5 6 6 5 6 7 4 4 2 Dentro 1 Dentro 4 Dentro Dentro 6 6 5 Dentro 4 Dentro 6 5 Dentro 2 Dentro 4 Attenzione 10 4 Dentro Parti 10 3 Dentro 10 Dentro 1 Dentro 8 8 Dentro 10 4 Rimani 8 Rimani 9 4 Dentro 5 Dentro 4 Dentro 5 Dentro 3 Dentro 4 5 4 Dentro 6 Dentro 10 Segno 2 Dentro 6 Dentro 4 Dentro 2 Dentro 1 Bravo Dentro 4 Dentro Dentro 7 6 Dentro 7 Dentro Parti Parti 3 Dentro 9 Dentro 1 Dentro 4 Dentro 6 Dentro 1 Dentro 4 Dentro 6 1 3 4 2 Dentro Parti 10 2 Dentro 2 Dentro 4 Dentro 3 Perché sei partito? 10 2 Dentro 1 Dentro 6 Dentro 4 Dentro 2 Dentro 9 Prima 4 Dentro 9 Dentro 4 Dentro 6 Dentro 10 Parti Dentro Prima 6 Continua 10 6 Dentro 5 Dentro 5 Dentro Dentro Così 2 Dentro 7 2 Dentro 4 Dentro 2 6 Dentro 1 Dentro 4 Dentro 10 Parti Dentro 6 Continua 6 Dentro 3 Dentro 10 Dentro 2 Dentro 6 5 Dentro 4 Dentro 6 Dentro 8 Dentro 4 Dentro 5 Dentro 4 5 4 2 Spegni 10 Dentro Cambio luci Dichiaro Aperto 4 Dentro Il terzo 8 2 Tieni via 10 2 Dentro E' meglio che la finiamo qui eh ragazzi Dichiaro Aperto